Ciao ragazzi, parliamo oggi di un argomento che spesso viene trascurato a scuola, viene trascurato però in realtà è molto molto importante e spesso ci porta a degli errori quando facciamo la traduzione perché non ci spieghiamo alcune terminazioni di alcune parole, non ci spieghiamo alcune cose. In realtà si tratta di particolarità, ci sono in tutte le declinazioni, le abbiamo viste anche per la prima declinazione, se non ve le ricordate potete andare a riguardare il video dedicato alle particolarità della prima declinazione e ce ne sono appunto anche nella seconda, è molto molto importante conoscerle e capire del perché. Dunque, la prima particolarità è questa, ci sono tre nomi, inus, che escono inus al nominativo singolare, che sono neutri e si usano solo al singolare. Questi nomi sono pelagus, che vuol dire mare, virus, che vuol dire veleno, ovviamente questo virus non dobbiamo andarlo a confondere con vir, che vuol dire uomo, virus è un nome neutro della seconda, vuol dire veleno, vulgus vuol dire il volgo. Allora, questi nomi, vedete che terminano inus, però sono neutri, voi direte come mai, abbiamo detto che tutti i nomi neutri sono inum? No, non è proprio così. Tutti i nomi che escono inum sono neutri, ma ci sono anche dei nomi neutri che non escono inum, ma escono inus, e sono questi tre. Allora, se io mi trovo vulgus, io vado sul dizionario e vado a cercarlo il vulgus e trovo che è un neutro, per esempio, trovo che è neutro. Qual è la particolarità dei neutri? Che hanno i tre casi retti, nominativo, accusativo e vocativo uguali, quindi questo uscirà a vulgus, anche all'accusativo. E se io su una versione mi trovo vulgus, io non ci vado a pensare subito che è un neutro, se non so che ci sono dei nomi neutri che possono uscire inus, penso a un soggetto, quindi per questo è importantissimo conoscere e memorizzare queste tre parole e sapere che sono neutrie. Quindi pelacus farà us anche all'accusativo e anche al vocativo singolare, così come virus, veleno e virus non va mai, ovviamente confuso con vir, uomo. Poi ci sono nomi usati solo al plurale, detti pluralia tantum. I pluralia tantum ovviamente c'erano anche nella prima declinazione, sono dei nomi che si usano soltanto al plurale, ma a volte si traducono con il singolare, a volte anche con il plurale, ma la cosa importante è che io non andrò mai a cercarli al singolare sul vocabolario, ma ci sono soltanto al plurale, cosa che solitamente non si fa, perché io una parola so, un sostantivo, so che devo andarmelo a cercare sempre al nominativo singolare, invece nel caso dei pluralia tantum vado a cercare direttamente il nominativo plurale. Ovviamente li devo conoscere, perché altrimenti posso anche impazzire sul vocabolario a cercare inferus invece che inferi, ma inferus non c'è, quindi è importante che so che inferi, inferorum, vuol dire dei infernali. Oppure, anche se non mi ricordo bene il significato, è importante che io sappia che lo posso andare a cercare così come è sul dizionario, ma andiamo con ordine e leggiamoli. vei, veiorum, è beio, argi, argorum, argo, vedete le città, delfi del forum, delfi, poi inferi, inferorum, sono gli dei infernali, liberi, liberorum, sono i figli, superi, superorum, sono gli dei celestiali, posteri, posterorum, sono i posteri. Questi nomi che vi ho elencato adesso sono maschili. Ci sono anche dei plurali adantum che sono neutri, per esempio arma, armorum, sono le armi, cibaria, cibariorum, sono i viveri. Ci torneremo su questo argomento perché faremo delle esercitazioni nelle quali appunto vi farò anche tradurre dei passi dove sono presenti dei trabocchetti e capiremo insieme come superarli. Ci sono poi, dei nomi che al singolare significano una cosa, invece al plurale ne significano un'altra. Per esempio abbiamo al singolare ludus ludi, che è un nome maschile, che al singolare vuol dire gioco oppure vuol dire scuola, pensate che differenza, o gioco o scuola. Invece al plurale ludi ludorum vuol dire spettacoli pubblici. Poi abbiamo auxilium auxili, che è un nome neutro e vuol dire aiuto, al singolare. Invece auxilia, auxiliarum, vuol dire truppe ausiliarie, al plurale. Poi abbiamo bonum, boni, che è un nome neutro, vuol dire il bene. E poi abbiamo bona, bonorum, che sono i beni, le sostanze. Al singolare impedimentum, impedimenti, che è un nome neutro, vuol dire impedimento. Invece al plurale, impedimenta e impedimentorum, sono i bagagli. Castrum, castri è un nome neutro, al singolare vuol dire castello, fortezza. Nel plurale vuol dire con castra, castrorum, intendiamo accampamento. Castron, castro, 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 castro.